Buon salve ragazzi! Allora, voglio tornare su Little to the Left perché c'è un DLC che è uscito qualche mese fa e con l'ho ancora giocato e avevo voglia di tornare un pochino a rilassarmi su questo gioco dove devi semplicemente riordinare. Siete pronti? Vai, facciamolo. Vedo le stelle si chiama questo DLC. Va bene, va bene. In che senso? Pensavo fosse ambientato tipo nell'universo, invece... no? Va bene. Solite cose, ci sono robe, devi ordinarle. Qui penso che... ok, ok, posso già individuare un sistema. Credo. Ah, oddio. Ah, lo sto facendo con i morsi. Ok, adesso lo faccio con i morsi. Così, così lo suddivido in base ai morsi. No, è questo qua, è questo qua. Ok. Prima, prima roba fatta. Ora potrei suddividerlo anche in base alla forma geometrica perché vedo che c'è del tondo. Ah, ok, devo cliccare e rifare, giusto? Quindi, come al solito, mettiamo questi grandi qui, i tondi qua, i quadrati li metto qua. Questo è rientro nei quadrati? Sì, penso di sì. E questo? Negli... uno, due, tre, quattro, cinque... ottagoni? Ok. E un altro è fatto, molto bene. Ce n'è un altro ancora che potrebbe essere in ordine di colore. Vedo che qui c'è del verde, quindi potrei fare una cosa del genere. Qua... no, però aspetta, il colore mi sa che non c'entra qui, eh. E come lo faccio col colore? Eh, non c'entra niente il colore. No. Allora, quale potrebbe essere il terzo? Beh... potrebbe essere... qui bisogna guardare qualsiasi tipo di dettaglio. Ovviamente quelli grandi stanno qui per forza, eh, sì. E quelli intermedi, forse quelli bucherellati? Eh, ma non ha senso. Questi hanno la stessa... ok, questi... questi tre hanno gli stessi bordini, se notate. Sono tutti un po' così. E... però... non capisco bene. Non lo so. Proviamo a fare questa cosa. Eh! Ho fatto il terzo, ma posso dire che non l'ho ben capito. Ah, i bordini... ho fatto qualcosa con i bordini. Sono abbrita dai bordini, però questi altri due sono un po' confusi, ma comunque abbiamo risolto il primo livello. Ok. Oh, posate. Posate. Ok, allora, partiamo come sempre dal più banale in assoluto. Dalla più lunga alla più corta. Tendenzialmente non si sbaglia mai quando si fa dalla più lunga alla più corta. Questa però mi manca. Questa qui e questa qui. Ok. Oh! Cinque stelle! Ah, ecco perché si chiama... Com'era? Vedi le cercare stelle, vedi le stelle? Non perché è ambientato nell'universo, ma perché ci sono tante opzioni per completare un singolo livello. Ho capito. Allora, potremmo... Vedo che ci sono sicuramente delle posate con delle cose sopra e altre che non hanno niente sopra. Tipo questa ha due cetrolini, tre pomodorini, gli spaghetti. Però... Eh no, però ce ne sono certi che non hanno... Allora, ah no! Dalla più sporca alla più pulita. Anche se non capisco bene qual è la più sporca e qual è la più pulita. Ok, allora... Potrebbe essere una cosa del genere. Tu potresti essere qui a metà. Questa forse è sicuramente la più pulita. Questa non è così tanto pulita. Oh! Ah ok, l'ho completato. Stavo ancora lì a pensare. Penso di aver fatto giusto dalla più sporca alla più pulita. Ma ce ne sono altre mille. Ma come mi ricordo da questo gioco, tutti i dettagli sono importanti. Vedo che c'è qualcosa che è fatto in legno e qualcosa che non è fatto in legno. Però come l'ordino? Eh, non ha senso. Eh, tipo... Lui c'ha entrambi. Sia non legno che legno. Eh, questo è un po' complicato. Potrei fare... Non lo so, in ordine di... Così? Ok. L'ho fatto. Oddio, l'ho completato, non ho capito come. Ah sì, perché ho fatto tutte quelle con legno in ordine di altezza. Ok, a un certo punto l'ho fatto anche qui, ma non me ne sono accorta. E in mezzo ho messo questo qua. Sì, ma ce ne sono ancora un sacco. Io non ho finito le idee. Ah no, sono forchette fatte a tre. Queste ne ha quattro di... Questo ne ha quattro. Questo ne ha due. Ok. Qualcune sono a tre. Ah no, vediamo lo sfondo. C'è lo sfondo, la fine. Tipo, vedi, questa ha un solo... Un pirulino. Questa ne ha due. Questa ne ha tre. Cerchiamo ne una che ne ha quattro. Ah no, però anche questa ne ha uno. Oh, cacchio. E no. Ah no, anche questa ne ha quattro. Questa ne ha cinque. Questa ne ha sei. Vedete, sto guardando il culetto di queste forchette. E qui inizia a essere un po' difficile contare. Uno, due, tre, quattro. Questa ne ha otto. Mi manca sette. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Questa ne ha dieci al diritto. Questa ne ha sette. Questa ne ha otto. E questa però mi manca, scusate. Ah, ok. Ah, questa non ne aveva nemmeno uno. Ho capito. Il culo... Il culone grande di questa è perché non ne aveva nemmeno uno. Eh, ok. Mi manca l'ultima. Manca l'ultima. E sinceramente ho finito. Cioè, non so più. Non so più. Cioè, potrei guardare le forchette, effettivamente. Le punte delle forchette. Ma sono o due o tre. O quattro. Queste sono da quattro. Dobbiamo mettere... Ma possiamo fare una roba del genere? Tre. No. Da quattro ce ne sono solo due. Da tre ce ne sono quattro. Quindi potrebbe avere un senso. No, da tre ce ne sono più. C'è anche questa piccolina. Eh, non lo so. No, aspetta. Oddio mio. Eh, boh. No. Allora c'è qualcosa che non quadra. Non mi manca l'ultima. Oddio, non mi viene in mente niente. Ho fatto la pulizia. Le punte delle forchette mi sembrano... Ah, forse da quelle che sono più... Verso l'alto. No. Più dritte. No. Non c'entra niente. Sono tutte così a caso. Ah, non lo so. Però c'era... Mi ricordo che c'erano i suggerimenti, vero? Eh, però... Eh, però non mi dare il suggerimento di una cosa che so già... Ah, ok. Questa l'ho già vista. Ah, questa non l'ho fatta. Aspetta. Ah, dalla... Dalla base più bassa alla base più alta. Ok, questo non l'avevo fatto. Dalla base... Vabbè, questo era un po' complicato da rimarci, eh. Quindi tu metti tipo questa qui, questa qui. Ehm... Vediamo... Adesso devo trovare le basi basse. Che, tra l'altro, non capisco nemmeno da dove parte... Cioè, da dove parte l'inizio della forchetta... Cioè, delle... Ah, ah. Allora, questa è l'ultima, sicuramente. Così. Così, giusto. Sì. Ok. Mamma mia, difficile. Difficile. Ehm... Dai, però, ho visto solamente un suggerimento. Gli altri ci sono arrivata. Quindi mi sento quasi intelligente. Tazze. Tazze colorate. Tazze... Disegnate. Oh, oh. Vedo già. Qui è abbastanza semplice. Seguo le linee. Tipo così. Perfetto. Questa mi sembra giusta. Però il nero non sta seguendo... Oh. Così? No. C'è qualcosa che non quadra. È così. Eh, però... Qui non va bene. Ok, perfetto. Mamma mia, ce ne sono quattro. Ok, vabbè. Prima ho fatto la forma del colore. Che, in effetti, visivamente era quella più impattante. Però già vedo che ci sono delle tazze che hanno delle righe, delle forme. Quindi, tipo questa... No. Oddio, seguiamo le righe. Seguiamo le righe. Aspetta. Questa al centro ha delle righine. Tipo così potrebbe essere. Non lo so. Questa ha delle righe. Allora, questa potrebbe essere... Oh, guarda questa come si incastra perfettamente. Ok. Eh, però con cosa la metto? Con questa? Boh. Eh, questa però non si incastrano bene per niente. Come se forse si incastra bene con questa? No, per nulla. Oh, mamma mia. Sto facendo un casino. Eh no, aspetta. Ce n'era una che era perfetta. L'ho tolta. Ho tolto quella che era perfetta per qua sotto. Ok, questa era perfetta per qua sotto. Questa cosa delle linee mi sta un attimo confondendo. Eh no, questa è sbagliata. Allora, linee grandi. Linee grandi, linee grandi. E linee piccole. No. Non ci siamo per niente. Non ci siamo proprio per niente. Eh, è difficile. Allora, aspetta. Ignoriamo un attimo le linee. Guardiamo le forme delle tazze. Che ci sono queste, che sono palesemente tutte quante. Esatto. Prima quelle semplici facciamo. Queste erano tutte con la stessa forma. E l'ho fatta. Ok. Poi con lo stesso... Il colore è norma. Il colore è andato. Quindi secondo me è inutile fare la roba del colore. Ecco. Concentriamoci effettivamente su queste righe. Anche se non riesco a metterle in modo corretto. Aspetta, aspetta, aspetta. Oh, questa è perfetta. Guardate questa come coincide perfettamente. Ok. Ok. Già il fatto che ho fatto una colonna è una cosa positiva. Perché stavo iniziando a impazzire. Allora. Lei potrebbe coincidere con questa? Assolutamente no. Con questa coincide perfettamente. E però con questa cosa coincide? Questa? Non molto, sinceramente. Oddio, forse in realtà sì. E con queste però non coincide nulla. Oh no, aspetta. Questa coincide. Ok. Quale ho fatto? Ok, ho fatto le rine. Sì. C'è un quarto metodo. Potrebbe essere con i manici il metodo? Il quarto metodo? Che in effetti è l'unica cosa che non ho guardato finora. Tipo questo e questi hanno tutti lo stesso manico. Questo e questo hanno tutti lo stesso manico. Però non mi ha dato... Non me l'ha data. Non me l'ha data, raga. Non me l'ha data. Avevo fatto... Cioè avevano le stesse forme questi manici. Che sbatti. Pensavo di averci azzeccato. Invece no. Allora, se non sono i manici... Lì ne ho fatto. I colori le ho fatto. La forma l'ho fatta. I manici è sbagliato. Boh. Facciamo tutti questi manici da un lato. Li mettiamo in mezzo. Eh, non lo so. Non capisco, non capisco. Potrei... Proviamo a mettere i manici uguali in orizzontale. Non cambia assolutamente niente. Caspita. Secondo me è qualcosa con i manici per forza, no? Allora, siccome non voglio sempre stare otto anni su un suggerimento. Ok, questa l'abbiamo fatta. Eh no, guarda che sono i manici. E come li vuoi, scusami, questi manici? Ah, uno alternato rispetto all'altro. Perché? Perché, scusami. Ah no, era giusta la cosa di mettere i manici in colonna. Però li volevi in modo particolare. Allora, aspetta. Quindi mettere i manici in colonna era giusto. Quindi rifacciamo questa cosa che avevo fatto. Ma li vuoi particolare. Ok, quindi vuoi questo qui, questo qui, questo qui e questo così. Ok. Dovevo giustamente far corrispondere le forme dei manici con le forme delle tazze? Non lo so. Vabbè. L'ho fatto. L'ho completato. Le pannocchie. Ok. Con le pannocchie. Immagino che ci sarà una roba riguardante i piccoli mais neri. che andranno in ordine. Ok, infatti. Sono quattro anche queste pannocchie. Poi vedo dei lati tutti mangiati. Ok. Mettiamo tutti i lati mangiati. Gnamme. Mi piacciono un bottone le pannocchie. Poi mi piacciono. Ok. E anche i lati mangiati li ho fatti. Vedo anche dei lati... Boh, sporchi? Non so. Sono sporchi. Sono con il pepe. Non so cosa c'hanno questi lati. E anche questo è stato molto semplice. E dei lati... Che altro lato c'è? Non lo so. Ah, guarda un po'. Forse ho capito, eh. Eh sì. Vedi, ci sono dei lati mangiati in ordine di altezza. No? Ho sbagliato? Guarda. Scusami. Ero convinta di aver fatto giusto. Perché non va? Ho fatto l'ordine di altezza. Ah, ok. Avevo sbagliato proprio quello lì. Minchia. No, ho detto una parolaccia. Vabbè. Le pannocchie le ho fatte velocissime. Come fortissima. Oh mamma. Ok. Foglie in un libro. Direi di mettere... Ci sono delle sagome. Ok. È molto semplice, è molto semplice. Cerchiamo. No, aspetta. Ho sbagliato. Che cacchio? Ah no, è giusto. È giusto. No, aspetta. Ci sono più... Cavolo, ci sono più forme. Che mi confondono. Che ci sono sia le macchie... Che i disegni. Ma io dove devo mettere quelle giuste? È un casino. Allora, aspetta. Non complichiamoci la vita troppo. No, è giusto. Allora, no. È per forza così. Eh, questa va qui. Va così. No? Il problema è che... Boh, vabbè. Non sto capendo. Non sto capendo. Ma ci sono... Posso girare pagina? No. Allora. Ok, ah, questa va qua. Eh, infatti l'avevo notata. Una lunga qui. Una piccolina. Questa dove può andare? Scusatemi. Qua? No. Scusa, ma questa potrebbe andare anche qua. Oh, no! Ok, aspetta un attimo. Perché mi sa che sto confondendo un po' di cose. Io non posso fare... Vanno in più parti. È un casino. È un casino, ragazzi. È un casino. È perché io tolgo questa. Eh, vedi che ci sono queste. Se tolgo questa... Eh, però questa dove va? Qua? No. E allora no, aspetta. Faccio prima le macchie perché... Non lo so, perché? Ma mi sembrano molto più intuitive le macchie rispetto che all'inchiostro. Perché all'inchiostro ci sono solamente quattro foglie. Questa la metto qui. Ok. Poi... Questa l'ho vista. La mettiamo qua. Questa la mettiamo qua. Una foglia piccolina. Ah, ecco, guarda qui. Quest'altra va bene qua. Oh, ho visto questa... Che ha una forma strana. Va qui. Questa invece va qui. Questa va qui. No. Eh, tu. Qua. Ne manca una. Scusa, manca questa. Dov'è? Aiuto! Ah no, ok. Non la vedevo. No. Manca qualcos'altro. Non me l'ha data. Perché non me la stai dando? Ah, no. Questa è la storta. Ok. Ok, ce ne sono tre. Ce ne sono tre. Va bene. Allora. Pensiamo all'inchiostro. Ora. Ignoriamo le macchie di caffè. Se penso all'inchiostro... Eh, ma raga. Ma ci sono solo quattro foglie se penso all'inchiostro. Come faccio? Non capisco, vi giuro. Dove le metto tutte le altre? Non capisco, non capisco. Dovrei... Forse queste macchie di inchiostro dovrebbero coincidere... Con i buchi? Ok, mi sa che è così, sapete. Queste macchie di inchiostro dovrebbero coincidere... Il fatto che non è semplice. Eh, però... Nooo, un'altra! E quindi questo non c'entra niente. Perché questa va lì. Ok. Allora. Quindi. Ne ho beccata un'altra. E questa mi sembra estremamente più difficile. Troviamo... Ok, forse questa va qua. Ah, ok, guarda com'è perfetta. Questa piccolina va qui. Devo trovare tipo le macchie più particolari e cercare quelle a cui coincidono. Questo coincide? No. Questo non coincide. No, questo non coincide. Difficile. È difficilissimo questo, caspita. Questo ha tre buchi. E dove cacchio glieli metto? Oh. Ok, questa l'ho trovata. Questa non può essere qua. Qui no, qua. Sì, ok. Questa gliel'ho beccata. Una così. Ok. Oh, guarda cosa ho trovato. Ottimo, ottimo. Aspetta però qui perché ci sono un po' di buchi che non mi tornano. Allora. Ok, ne ho trovata un'altra piccolina. Questa qua può essere? No. Forse qua? Sì, perfetto. Tu piccolina qua? No, non ti piace stare qui. Va bene. Cioè, sto buco è molto grande. Ah, che potrebbe essere questo. Sì, esatto. Ah, guarda. E questo è perfetto. Allora, togliamo questa. Qui vedo proprio i tre buchi perfetti. Ora mi mancano quelle più piccole, mi sa. Ok, questa qua. Tu? Ma te dove ti metto? Tu hai... No, questa mi si è spostata o non sapevo dove metterla io? Eh no. Eh, mi sto perdendo dei buchi, mi sa. Ah, guarda. Questo qua? Eh sì, è giusto. Eh, questa però... Dove cacca? Qual è il tuo buco? Ah, quello era il tuo buco. Questa ti metto qua. Questa? Perfetta. E questa qua. Oh! Ho fatto quello con i buchi di inchiostro. Ora il problema... Torna ad essere... Questo che... Non capisco. Perché se io... Metto... Metto... Qui... Queste, no? È così. Eh, metto queste qua. E poi gli altri? Aspetta, ho un'idea. Potrebbe essere che vanno tutte l'una sopra l'altra? Ah, guarda. Ho capito. Ok, tipo... Ok, tipo... Tu? Qua? No? No? Tu qui. Ok. Tu? Vai qua. Eh... Per queste... Ah, queste sono i suoi petali. Uh, bello. Ok. Ok. Non so dove metterti. Eh, non mi sa che ho sbogliato qualcosa. Così. Ok, tu qua. Tu qua. E qua. Bello! Bellissimo! Super soddisfacente. Queste composizioni non le avevo per niente notate. Oh, dai. Poi è sempre una soddisfazione ormai riuscire a farle. Senza usare il suggerimento. Molto, molto contenta. Allora. Oh. Cos'è? Devo romperlo? Oddio! Non pensavo che dovessi romperlo per davvero. Devo rompere dei vasi per aggiustare questo. Quindi rompo anche te. Ok. Ok, guarda. Questo pezzo enorme lo ficchiamo qua. Quest'altro pezzo enorme potrebbe essere messo qua sotto. Questo triangolo è un po' grande. Oh. Vediamo, eh. Perché poi non riesco nemmeno a capire bene che forma Anna, a meno che non li prendo in mano. È un po' difficile. È un po' difficile. Non capisco. Tipo. Ecco. Questo. Qua. Ok. Tu. Qua. Molto bene. Se questo ha diverse soluzioni mi chiedo quali possano essere le altre. ehm... 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 No. Ma sto cavolo di trapezio, dove lo metto? È un trapezio, qua. Ok. ehm... ok. Ok. No. Molto bene. Pezzo piccolino qui. Quest'altro pezzo qui. Sono fortissima. Tu palesemente vai qua. Tu vai qua. Eccolo. Fatto. È tornato il gattino che rompe le cose. Non romperlo. L'ho appena aggiustato. Ciao. Unico che ti faccio le carezzine. Un altro! Oddio. Ok. Meno male che c'è una soluzione. C'è un altro gattino. Hanno preso un nuovo gattino. Bellino. Cioè. Non c'è n'era un altro. Non so. Io a volte sono confusa. Non mi ricordo le cose. Tamagotchi. Adoro. Ok. Che ridere. Posso metterli in ordine. Tutti che dormono. Tutti che dormono? Oddio. Senza. No. Pensavo che ci fosse l'ordine. Tutti che dormivano. Ma a quanto pare non c'è. Vabbè. Come l'ho detto. Cancella. Cancella. Allora. Ordine di. Non so nemmeno dove iniziare. L'ordine dal ciondolo più alto. Più basso. Ok. Ok. Ce ne sono cinque. Va bene. Cinque sono tanti. Ordine dal. Secondo me qualcosa con questo bisogna farlo. Dai. Però questo dorme basta. Ma forse in ordine dal quello che dorme a quello che si sveglia. Tipo perché vedi questo ha solo uno. Questo ha due emozioni. Queste. Quindi chi è che aveva tre emozioni? Tu. Quindi. Quello felice. Tu che scusa che emozioni hai? Sei perplesso. Tu quante emozioni hai? Uno. Tre. Quattro. Non lo so. Tu quante emozioni hai? Triste. Allora. Mettiamo quello innamorato. E tu mettiamo che sei triste. No. Qual è l'ordine delle emozioni? Allora. Questo è normale. Mettiamolo qua. Questo è addormentato. Felice. Lo mettiamo lì. Innamorato. Triste. Sbagliato? Felice. Perplesso. Addormentato. Lui è perplesso. Non c'è il felice. Ho messo tutte le emozioni. Cosa vi manca? Cosa volete da me? No. Allora. È giusto. Questo ha. In base alla barra. Guardate. Ho messo la cosa in base alla barra. Questo ne ha tre di emozioni. Mi sa che c'è qualcosa che mi sfugge con le emozioni di questi animaletti. Vabbè. Vabbè. Senti. Non sto capendo. Vuoi che aument... Cioè metto la barra massima a tutti? Ok. Ah, li ho messi... Ma prima l'avevo fatto! Ah, no. Prima non li avevo messi in ordini. Vabbè. Non ho capito niente. Allora. Facciamo in base a caratteristiche esterne. Tipo. Il bottone tonneggianti. No. No. Non iniziare. Dal più tondo al meno tondo. Vedete? Esatto. Perfetto. Queste cacatine ce le mettono sempre. Facciamo in ordine per... Altezza dello schermo. Ok. Questo è il più alto. Ok. Facile. Facile. E ora in ordine di forma del Tamagotchi. Direi dal più tondo al più... Ok. L'ho fatto. Va bene. Non stavo... Stavo ancora pensando. Però dal più tondo al più... Con degli arti. Ho fatto tutto. Easy. Facile. Semplice. Sono la più forte del mondo a questo gioco? Se volete dirmi di sì. Potete farlo. Oh. Questi sono quelli che mi piacciono a me. Mettere in ordine queste cose. Io adoro. Io adoro. Lo adoro. Dove sta andando questa cassetta? Adesso però non so. Così. È perfetto. Eh no. Ma c'è anche questa. Eh no. Allora mi sa che quello non è il posto giusto. E questo è il posto giusto. Ce n'è un'altra? Ah sì. Eccola. Metteremo qua. Ok. Ok. Questo è decisamente il posto giusto per queste cassette. Questa pistola può andare solo che qui. Quindi la mettiamo qua. Che carino tutte queste cose un po' vintage. Molto molto belline. Allora. Queste cassette. Passettine, nastri. Cosa sono? Tu vai qua. Ok. Direi che questo è il proprio posto giusto. Anche se secondo me ho sbagliato l'ordine. C'è un senso di ordine. Non ne ho idea. Boh. Ce ne sono altre? Non le vedo. Ci sono altre? Non le vedo. Tu? Dove vai? Boh. Ah. Questo telefono va qui palese. Oh. Queste vanno proprio qua mi sa. Ne manca una. Ah sì. Manca questa. I floppy disk sono questi. Quest'altro telefonino? Non lo so. Ci sono un bel po' di telefonini. Eh. Oh no. Come di fare l'unica cosa che sono certa che. Cos'è? Dal più vecchio al più recente? Questo che roba è? Ah. Un'altra ce n'è. Eccola qua. Ok. Qui mi sa che devo un attimo sistemare i cavi. Ecco. Tipo sì così. Ok. Questa penna la metto qui. Qui c'è il rullino. Questo va qua. E questa qua. Ok. Allora. Sicuramente ci sono. Ho sbagliato. Alcune cose. Una roba del genere secondo me è corretta. Perché proprio metto al centro. Quello più alto. Che ha sia il colore grigio che nero. Questo è giusto. Forse ho sbagliato l'ordine di queste cassette. Sapete? Siamo in ordine di... Non lo so. scritta, lunga, lunga, corta. Così? Vedete? Così è dalla cosa più scritta, più corta, alla cosa segnata, più lunga. Oddio, però forse devo rifare così. Così, così. Perché questo in effetti è un po' Così. No. E non cambia niente. Non me lo sta dando corretto. Non so cosa ho sbagliato, ragazzi. Non so cosa sto sbagliando. Questo siamo sicuri che vada lì. Eh, per forza. Questo è perfetto. Qui è tutto perfetto. Forse il cellulare ho sbagliato a questo punto. Lo vuoi così, in ordine... In questo modo? Questo ha l'antenna più grande. Fino ad arrivare sempre là in cima, comunque. Cosa cacchio ho sbagliato? Dimmelo! Ah, ma c'era un altro di questi cosi. Ma chi l'aveva visto? Lì in fondo. Mannaggia miseria. Ah! Forse non era nemmeno necessario che tutte queste cose fossero in questo ordine. Mancava semplicemente un pezzo. Vabbè. Ops. I palloni. Ok. In ordine dal più grande al più piccolo. Eccoci qua. Easy. Quante sono? Tre soluzioni. Dai, neanche tante. Allora, facciamo... Ordini... Ok. Guarda, già lo so. È una roba riguardante i rimbalzi, vero? Lui non fa nessun rimbalzo. Sta qua. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Questa sta proprio palese che sta lì. Allora. Il pallone da tennis dovrebbe rimbalzare tanto. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Ok. La mettiamo qua. Palavolo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Ok. Quindi se sta al sei... Qua ci deve essere l'otto. Qui il sette. Quindi il sei sta qua. Vediamo lei. Uno. Due. Oh. Rimbalza pochissimo lei. Questa. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Ok. Quindi la metterò qua. Quella da calcio? Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ok. Quindi è giusta qua. E tu. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Ok. Quindi questa va qua. Ok. Cioè non sto lì a farle rimbalzare perché le avevo messe quasi tutte nel posto giusto. Ho azzeccato fossero i rimbalzi. Secondo me i rimbalzi erano tipo la cosa più difficile. C'è da azzeccare. L'ho azzeccata come seconda. Secondo me l'ultima è qualcosa con i colori a questo punto. O no con le forme dentro. Cioè tipo questa pallina è divisa in tre. Questa pallina è divisa in due. Ok. Non c'è una divisa un. Non c'è una monocolore. Tipo questa pallina è divisa in due. La metto qua. Questa è divisa in tre. Quindi la metto in qua. Oddio mio però forse inizia a essere troppo complicato. Non ce n'è una divisa quattro. Uno, due, tre. Ah no questa è divisa quattro. Questa è divisa quattro. Va bene qui. Uno, due, tre, quattro. Questa è divisa cinque. Questo è diviso sei. Questo è diviso nove. Quindi via. Tipo qua. Mi serve una diviso sette. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Tre. Questa è sette. Ok. Eh no è giusto. Sì sette. Questa cos'è? Uno, due, tre, quattro, cinque. Sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Oddio. Tu vai qua. Oh. L'ho fatto. L'ho fatto senza contare tutto il resto. Ok. Era effettivamente con la divisione delle forme. Che cacchio è questo? Oh. Il ghiaccio. Il ghiaccio. Boh. Ok. È Tetris raga. Bellissimo Tetris. Io amo Tetris. Io amo Tetris. Però secondo me di base il primo è dividerlo semplicemente in base alla tipologia di ghiaccio con dentro le cose infatti. Oddio ce ne sono quattro. Oh santo cielo. Ok. Poi. Forme strane non ne vedo. Ah. Secondo me l'altro tentativo è quello di fare tipo le acque alte allo stesso modo. Non lo so. Eh però è impossibile. E' letteralmente una cosa difficilissima da calcolare. Allora i bicchieri non si possono spostare no. Oddio mio. Allora togliamo tutto. C'è sempre la stessa quantitativa di acqua. Oddio. Ah mi ha dato un achievement togliendo tutto quanto il ghiaccio. Va bene. Allora potrei provare a mettere tutti quanti i pezzi che hanno tipo tre ghiacci. e quattro perché mi sembra che ci sono. No questo no. Da quattro no. Ah no questo è da quattro è vero. Mentre invece questi sono tutti da cinque. Oh. Ok. Ok. Molto bene. Prossimo. Eh sì. Secondo me è qualcosa con l'acqua. Il problema è capire quanta quantità di ghiaccio va in un coso per avere sempre tutti la stessa quantità. Per esempio sicuramente qui ci andrà meno acqua perché c'è più acqua mentre qui ci andrà cioè no qui ci andrà più al centro ci andrà meno ghiaccio mentre a destra ci andrà più ghiaccio. Forse potremmo tra l'altro più piccoli sono più riempiono eppure anche complicato qui farla alzare quest'acqua. Ok così è molto alta. Vediamo se riesco a raggiungere. Ok. Ora faccio così e faccio tipo così. Sono alla stessa altezza? Sì. E se metto tutto quello che rimane qua? Oddio ci sono arrivata. Ok. Ok. Ne manca uno. Manca uno. Allora. Unica cosa che ho notato. E secondo me. Oddio difficili. Ci sono delle crepe. Vuoi vedere che va tutto in uno qua? Queste crepe secondo me coincidono con... Devono coincidere con altre crepe. Però non così. E non so nemmeno da che parte si parte. Sì è brutto. Eh dammi una buona base. Ok. Questa è una buona base. No. Non lo so. Non lo so. Questo no. Me lo metto così. Questo no. Questo dovrebbe andare lì. Oddio no. Posso sbagliare tutto. Questo lo metto proprio da un'altra parte. Aspetta. Dobbiamo fare la cosa del genere. Oh guarda guarda. Aspetta ci siamo eh. Oh bello bello. Vedi? Questa crepa del ghiaccio sta formando qualcosa. Potrei fare così. Così. Aspetta. Dobbiamo fare questa cosa qua. Questa cosa qua. E questa cosa qua. Questo è stato veramente difficile posso dire. Mamma mia. Complicato al massimo. Però è Tetris. E io sono bravissima in Tetris. Pizza. Mamma mia. La pizza. Ok. Sappiamo già come vogliamo farlo. Giusto? Io ci metto un po' di pizza qui. Un altro po' di pizza qui. Ah no. Aspetta. Posso mettere. Faccio tutto quanto il salame. In una fetta. Poi faccio tutto qua. Tutti quanti i funghi. In una fetta. Questa cos'è pancetta? In una fetta. Foglioline in una fetta. Cettroline in una fetta. Olive in una fetta. Cettroline, cetroline, funghi. Foglioline, cetroline. Cettroline, cetroline. Qua. Quanti cetroline ci sono? Foglioline, foglioline. Cettroline. Cettroline. Olive. Olive. Ok. Quanti sono le... Eh, sono quattro. Sono tante qua. Ok. Ora direi di mettere... Le cose fatte uniformi. Una roba del genere. Andiamo. Se è possibile. Questa qua. Ci sono un botto di fette di salame. Ma se coincidono tutte perfettamente... Ok. Coincidono tutte perfettamente con... Gli angoli, diciamo, un pochino più tondeggianti di questa pizza. Quindi direi che la strada è quella giusta. Ora. Come si prosegue, però? Quante sono le fogli... Foglioline non sono tantissime. Allora. Oddio. Una fogliolina per pizza? Cioè, perfetta? Una fogliolina perfetta. Ok. Non so se c'è un'effettiva composizione. Spero... Mi auguro di no. Perché non mi sembra che qua abbiano intenzione. Allora. Mente di pancetta. Vediamo se c'è una pancetta perfetta. Eh sì. Una pancetta perfetta. Mentre di cetolini ce ne sono tantissimi. Dobbiamo mettere due cetolini perfetta. Eh sì. Due cetolini perfetta. Ok. Olive. Mettiamo un'oliva perfetta. Perché mi sembra che ce ne siano di meno. Ok. Funghi. Un fungo perfetta. Ho sbagliato qualcosa. Forse a sto punto sono... Ho sbagliato. Devo fare due fette per salame. E non questa cosa. Oh. Che ho fatto? Cosa... Cosa... Che... Che opzione mi hai dato? Cosa? Cosa ho fatto? Adesso non so cosa ho fatto. Quindi non so più cosa escludere. Forse mi ha dato ogni elemento giusto, diviso per ogni fetta. Sì ma adesso non so più cosa fare. Perché io ho messo i salami in un certo modo. E adesso dove cacchio me li metto sti salami? Sono quattro... No raga. Io non so più cosa fare. Ce ne sono quattro. Anzi faccio una pizza margherita. Niente, basta. Io la mangio margherita la pizza. Scusate ragazzi. Io non voglio niente nella pizza. Dio mio se c'è veramente il livello pizza margherita. La soluzione pizza margherita. Cioè... Voglio un premio. Sì. Pizza margherita. E mo? E mo basta. Cioè in realtà la pizza margherita dovrebbe avere la fogliolina eh. Vabbè. E mo però l'ultima non mi viene in mente. Ho usato tutta la mia creatività per togliere tutto quanto. Scusate potreste gentilmente dirmi... Ok questo no l'ho fatto. Questo l'ho fatto. È quello che mi ha dato a caso. La pizza. Ah no non è pizza margherita. Pizza formaggio. Vabbè io la chiamo... Ok manca l'ultima. Ah ho capito. Ho capito. L'avete capito? Ha diviso. Pizza carnivora da pizza vegetariana. Vabbè ma questa come ci arrivavo? Scusate. È complicatissima questa soluzione. Ma non ci prendi... Non ci avrei mai pensato nella vita. Meno male che sono andato subito a suggerimento. Ok. Facciamo. Pizza per i vegetariani. E pizza. Per chi? Se mangia pure la carne. Ecco qua. Ah no. Ho dimenticato un pezzo di pancetta. Ok. E anche la pizza l'abbiamo fatta. Possiamo definirci dei pizzaioli adesso. Ok. Vorrei interrompere precisamente a metà così il prossimo video mi viene più o meno della stessa lunghezza. Quindi voglio solo capire... Oddio ma manca ancora un sacco. Non ce la farò mai. Mi sa che devo farne tre di questi video. Oh santo. Ah poi ci sono dei video... Dei cose speciali. Ok. Ok. Eh no vabbè ma ci vuole troppo. Quanto sono arrivato? Dai arrivo al 40. Arrivo al 40%. Voglio fare anche questo. Allora le schicette con il cibo. Dividiamole per... Colore di tappi. Mi sembra la prima cosa sensata da fare. Oh. I colori di tappi? No. Quanto pare no. Allora. Te lo metto anche in... No. I colori di tappi? Incredibile. Ah no. Forse devo farlo più color arcobaleno. Oddio mio. No. Vabbè. Niente no. Il colore di tappi non è un ordine. Allora. Proviamo con le etichette. Eh. O no. Proviamo con il cibo. Ci sono così tanti elementi. Ci sono anche i tappi che hanno le linguette diverse. Mettiamo... Ok. Mettiamo incolonnati i tappi con tre linguette. Va bene. Ora mettiamo incolonnati i tappi con due linguette. E incolonnati quelli con una sola linguetta. No. Nemmeno questo? Ah vuoi i colori giusti forse. Eh no. Ma questo ha tre colori. È tutto sbagliato. Mi stanno... Mi stanno confondendo. Non ho ancora trovato una soluzione a queste... A queste robe. Forse ho perso il mio talento. Allora. Facciamo l'ordine della pasta. Qui c'è la pasta. Poi. Zuppine varie. Qui. Cettoriolini. No. No. Cos'è sta roba? Scusate. Qui cosa c'è? Cos'è sta roba qua dentro? Possibile che non riesca a trovare nemmeno una soluzione? Però in effetti sono anche ben cinque colonne. Non lo so. Roba del genere. Eh però... Come cacchio le divido? No. La zuppina va qua. E questo va qua. Eh ma questo che schifo è? Scusami. Non lo so. Cioè non riesco a dividerle queste cose. Non riesco a dividere queste cose. Aiuto. Come si fa? Cos'è questa roba qua? Perché deve essere così difficile? Allora dividiamole per... Emergenza. Aiuto. Allora mi stai prendendo in giro. Perché io questa cosa l'ho fatta e tu non me l'hai segnata giusta. Dividerla per colore eh. Allora dai. Facciamo... Facciamo prima questo. Io te l'ho fatta questa cosa. Però adesso lo faccio come lo fai tu. E così sarai contento. Ah forse dovevo in effetti iniziare dal rosso. Andare sull'arancione. No. In effetti è così. L'arancione prima di questo. E poi il verde vicino. Non è corretto. Posso dirtelo? Sono cinque? Oh mamma mia. Ok rifacciamo. Allora. Dividiamole adesso per... Etichetta. Abbiamo... Qui le etichette normali. Però anche questa è un'etichetta normale. Sinistra. Le etichette verso sinistra. Ok ok aspetta. Ci sto... Ci sto arrivando. Vedo... Vedo... Un... Uno schema. Perché ci sono anche quelle doppie. Tipo queste sono doppie. Vedi? Eh però... Come cacchio le divido? Allora. Ok. Ho capito. Così. Ma sono ancora divise per colore. No. E così. Allora aspetta. Mettiamo queste qua qua. Queste qua in basso. Qua. Eh però sto sbagliando qualcosa. Qualesemente. Qualesemente sto sbagliando qualcosa. Questo va qui. E questo qui. Però ovviamente ho sbagliato. Ho sbagliato perché c'è qualcosa che non va. È uno schema un po' diverso. Cioè io sto guardando le etichette. Tipo qua c'è la doppia etichetta. Quindi ho pensato di metterla in mezzo. Però non è corretto. Però non è corretto. Perché? Che schema vuoi di queste etichette? Ah perché devono essere proprio identiche. Ok. No guardate. Ora ci sono. Ora ci sono. Questa va qua. Insieme a questa. Perché sono tagliuzzate in questa maniera. Quelle doppie ok. Quella doppia va qua. Quelle curvate. Qual è però quella curvata? Non capisco. Posso dire che così mi sembrano giuste. Però a quanto pare. C'è ancora qualcosa di sbagliato. Ah no. È vero. Perché questa. Questa va qui mi sa. Vedi queste sono ondeggianti allo stesso modo. Queste sono tagliuzzate in questa maniera. Queste sono. Devono essere tutte dritte. Mentre queste vanno qui. Ok. Madonna mia. L'attenzione al dettaglio che richiede questo livello. E non è finita. Allora. Secondo me. Una delle divisioni è per tipologia. Cioè queste sono tre paste. E ci siamo. Queste sono tre zuppine. E ci siamo. Possiamo mettere tre tipo di frutta. Però questa non so se è frutta. Non so se è frutta questa. Cioè capito. Questa può essere verdura. Ok. E questo cos'è? Mi manca. Non so dove posizionare questi tre cosi. E qui ovviamente il suggerimento verrà in mio aiuto. Ah per quanto è piena. Mi stai dicendo. Ok. E gli altri? Ok. Questo l'ho fatto. Eh no. Anche qui. L'avevo notato la cosa delle... E delle... Ah però per come sono inclinate. E questo? Avevo capito. Cioè adesso ho capito. Però ho già dimenticato. Ho già dimenticato. Scusate. Allora. Due frutti. Tre paste. Questo non so cosa sia. Mettiti qua! Perché non me lo mette qua? Devo fare così? Dov'è l'altra pasta? Qui? Quattro zuppine. Questa è una roba incomprensibile. Va bene. Fatto. Le cinque verdure. Ecco perché non riuscivo a metterle in ordine di tipologia. Perché non erano divise tre per tre per tre. E io pensavo di sì invece. Va bene. Va bene. Ah. È sempre più complicato qua. Si sta facendo comunque. Allora. In ordine per quanto è pieno. Come la feva ha fatto però? Scusate. In ordine anche le linguette. Allora le linguette le aveva fatte inclinate in un certo modo. Quindi. Tipo. Questa è tutta a sinistra. Questa è tutta a sinistra. Però è da due. Queste sono gli altri da due. Qua. Questa è l'altra da due. Però non sto capendo. Non sto capendo. Ok. Ok. Aspetta. Così. 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 No. Così. E così. Ok. Facciamo quelle da uno qua. Così. Ok. Mamma mia. Mamma mia. Guarda te. Era estremamente difficile. Dai ragazzi. Cioè va bene tutto. Però. Tu mi vuoi proprio complicare la vita. Adesso cosa c'è di sbagliato? Ah. Questo. Ok. Le linguette devono essere pure inclinate. Nello stesso modo. Eh. Certo. Figurati. Figurati. Qual è l'ultimo metodo? Me lo sono già dimenticato. Era qualcosa con... La pienezza. In ordine di pienezza. Questo è il meno pieno. Poi cosa c'è? Non si capisce. Queste sono cose molto poco piene. E le metto qua. Poi. Le robe mezze piene. Le metto qua. E le robe ultrapiene sono qua. Ok. Ok. Boh. Non ho mai contrato così tanto spesso la parte dei suggerimenti. Però ammetto che questo livello era veramente difficile. Cioè non avevo capito. Non avevo capito niente. Cosa vi devo dire. E qui? E qui ho già paura. Ma cosa volete che faccio? Scusate. Aiuto? Ma posso fare solo così? Posso inclinarli tra li loro? Cosa vuoi che faccio? Scusate. Vuoi che apro le finestre del tutto? Perché non posso spostare. Non posso fare altro che fare così. Forse devo, devo, formare delle immagini? Ok. Ho formato. Cosa ho fatto? Gattino. Signor gatto. Signor gatto numero due. Oh. Un terzo gatto. Oh. Ma è arrabbiatissimo il terzo gatto. Gli manca pure un orecchio. Boh. Io non ho capito come ho risolto questa roba. Comunque posso dire. Eh. Eh. Qui ci siamo. Allora. Direi che con l'uscita di... Di questo terzo gatto. Sono arrivata bene al 43%. Io non so se riesco ad arrivare. Eh ma no. Ma sta durando troppo, purtroppo questo video. Non posso farlo durare così tanto. Mi sa che dividerò in tre parti a questo punto. Questo. Questo gioco. Che ne dite? Non pensavo fosse così lungo. È veramente lunghissimo. Dai ragazzi. Noi ci vediamo a un prossimo video. Sempre con A Little To The Left. Ciao. 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 Ciao.